Era stata un'intimicata. Bocche serrate, i due assessori napoletani della giunta dei Magislis, nell'occhio del ciclone, Franco Moxedano e Pina Tommasielli, non intendono rispondere a nessuna domanda su Parentopoli o questione multe. Lontano dalle telecamere, Moxedano, additato per aver favorito la nomina dirigente di un suo congiunto, rimanda all'intervista con la stampa alla Tommasielli che a sua volta ribadisce che intende far parlare i fatti e non alimentare inutili polemiche. L'occasione è data da un sopralluogo dei due al centro polifunzionale di Chiaiano, ultimamente nel mirino di Vandali, che hanno ripetuto Raid almeno sei volte nell'ultimo mese. Questo mentre il sindaco Luigi De Magisli si invade Twitter come un fiume in piena notte, difendendo il suo operato, mentre le critiche non si fermano. L'ultima autorevole contestazione al modus operandi dell'amministrazione napoletana viene dall'ex PM Antica Morra, ora magistrato di Corte di Cassazione, Raffaele Cantone. Nonostante condanni il clima da sciacalli che si respira in questi giorni, Cantone ritiene inopportuna la nomina del fratello del sindaco Claudio per il Forum delle Culture, in quanto indagato per la Coppa America. Anche il perdono del primo cittadino all'assessore Tommasielli non è ben digerito, se confermato quanto ipotizzato dai giudici sulle multe cancellate a parenti amici, quella dell'assessore allo sport, secondo il magistrato, sarebbe una condotta gravissima.